Da oltre tre decenni, i Lions Club di tutto il mondo sponsorizzano nelle scuole e presso le organizzazioni giovanili un concorso per opere artistiche molto speciale, rivolto ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. L'invito è quello di realizzare un poster dedicato alla pace. Realizzare dei poster sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, offrendo al resto del mondo l'ispirazione giusta tramite l'arte e la creatività dei più giovani. Tema dell'edizione di quest'anno è Osate sognare, uno stimolo per i giovani perché un sogno non è solamente un desiderio o una speranza ma è anche un percorso, un obiettivo, un'ambizione. Da qui l'idea per l'edizione di quest'anno di chiedere ai giovani di mostrare come trasformeranno in realtà i loro sogni di un mondo pacifico. Ogni anno circa 350.000 partecipanti provenienti da oltre 75 paesi nel mondo contribuiscono con le loro opere ad alimentare questo concorso. Ciascuno studente può presentare una sola opera e dal vincitore del concorso verrà offerto un viaggio nella località che sarà sede della giornata Lions con le Nazioni Unite. Il concorso ha un suo preciso percorso che consente di selezionare le opere presentate decretando un vincitore per ogni passaggio, consentendo quindi un salto che porta poi a stabilire il vincitore assoluto che rappresenterà l'Italia in occasione della celebrazione mondiale dell'evento. Per la prima volta a vincere a livello nazionale è una giovane calabrese, allieva della Scuola Media di San Calogero. Giulia Benvenuto, questo in nome della vincitrice, è stata doverosamente festeggiata proprio nella sua scuola che fa parte dell'Istituto Omnicomprensivo diretto da Giuseppe Sangeniti. La cerimonia, organizzata dalla Lions Club di Nicotera, che ha curato l'organizzazione del concorso nel suo territorio di riferimento, così come fatto da ciascun club, ha visto la premiazione della giovane vincitrice presente le massime autorità laionistiche del distretto. È stato quindi evidenziato come, grazie alle sue doti artistiche, affiancate alla spontaneità dei suoi 12 anni, Giulia Benvenuto ha saputo esprimere su una tela intrisa di colori il suo ideale di pace, riuscendo ad esprimere sentimenti ed emozioni senza alcun indugio e, come sottolineato dalla Presidente del Lions di Nicotera, Vittoria Verde, sa volare alto senza paura di cadere. Adesso la giovane Giulia, dalla sua San Calogero, dopo aver vinto il premio nazionale, si lancia oltre i confini, gareggiando in rappresentanza dell'Italia per la vittoria internazionale.